Ho molta simpatia per Collovati, lo amo come campione, lo seguo come filmista molto interessante, ha detto una cazzata colossale, punto! E perché l'ha detta? Perché in quella settimana, fatemi dire tre cose, non c'è stata solo la frase di Collovati, il caso di Vandanara ha suscitato un coro di persone tutte intelligenti, tutte per me nel mondo del caccio, che hanno tirato fuori delle cose di un maschilismo incredibile, le donne non devono entrare gli spogliatoi, le frasi di Costa Curta, tutti hanno parlato, tutti hanno detto le donne devono stare a casa loro a fare la cazza. Ora, non solo è sbagliato, ma non è vero, c'è una generazione di donne che fanno le giornaliste parlando di caccio meglio degli uomini e non lo dico perché voglio fare il femminista!